Anticipazioni Il Segreto, venerdì 19 luglio 2019 Carmelo, stanco delle offese di Eustaquio, spara un colpo di pistola che lo ferisce a morte. Lamberto, suo figlio, accecato dalla rabbia, afferra il fucile e sta per vendicare la morte del genitore, quando Don Berengario, dopo aver visto lo stato in cui è stata ridotta la povera Uriarte, si scaglia contro Lamberto che muore. Il prete poi inizia a pregare davanti ai cadaveri dei Molero, ma Carmelo freddamente lo invita a seppellirli in un luogo segreto al più presto. Il prete non è d'accordo, ma Ulieta piangendo disperatamente lo implora. Alla fine Don Berengario accetta di seguire le istruzioni del sindaco. Ulieta poi, per non fare insospettire suo marito, corre alla ricerca di panni puliti. Il prete sopraggiunge alla locanda e comunica a Marcella e Mattias che la Uriarte è stata ritrovata. Saul, lì con loro, fa salti di gioia. La ragazza finge di stare benissimo e di non aver bisogno di ridottori, ma mente. Elsa non vuole che nessuno sappia che lei è ricca. Tutti credono che sia povera e rivela ad Alvaro di aver ideato un piano segreto, un po' di tempo fa, per incastrare Antolina, di cui non si fida. E tutto questo per riconquistare Isaac. Don Anselmo e Tiburzio tentano di gestire al meglio le liti che sono nate tra i loro compaesani, a seguito dell'ingestione della bevanda prodotta dai Miranar. Fernando vede Roberto e Maria felici e va in crisi. Grazie a tutti.